Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla edizione blu di Gnam. Gnam, la rivista video che vi offre risorse sulla narrazione, dove la G può voler dire qualsiasi cosa o anche nulla, e il resto sta per narrazione, agglutinata multimediale, agglutinare, incollare insieme elementi diversi per ottenere un intero, perché la narrazione è la colla che tiene insieme i pezzi della nostra anima, impedendole di frantumarsi. In questo numero blu di Gnam, un'immagine, flat icon, icone, editabili e utilizzabili liberamente, un'applicazione toll per creare dialoghi animati, un articolo di Angela alla Greca sulla narrazione, nell'apprendimento e nell'educazione, sulla scia di Brunner, un libro, la grammatica della fantasia, un capolavoro di Gianni Rodari, e un gioco, Storycube Original. Tutto in grafica, GDB, grafica diversamente bella. Flat icon, 726.000 immagini di icone, raccolte in 13.800 pacchi. Possiamo cliccare, possiamo visualizzare un'icona, possiamo, una volta che siamo registrati e loggati, anche editare l'icona, come ci piace, modificando determinati colori, e poi scaricarla o aggiungerla a una delle nostre collezioni. Possiamo fare, nell'edizione free, nell'account free, possiamo creare fino a sei raccolte. Questa è una delle mie raccolte, questa è un'altra raccolta. Possiamo cercare, con questo motore di ricerca, le icone che ci interessano. Possiamo, liberamente, come dicevo, utilizzarle o archiviarle. Quindi non si tratta di un semplice archivio di icone, perché abbiamo degli strumenti per gestire le icone, piuttosto interessanti, che sono descritti nel video tutorial che vi propongo. Cliccando su questo link, infatti avrete l'accesso a un video tutorial che vi spiegherà come sfruttare al meglio questo, che non è, come dicevo, un semplice archivio. Ricordo che le icone sono degli strumenti interessanti per la media education, ma per la narrazione, perché permettono di costruire storie, o permettono di disporre di elementi per costruire le nostre storie. Un'applicazione, Talks, si tratta di un'applicazione gratuita, molto semplice, permette di costruire dialoghi di questo tipo. Come vedete ci sono dei supereroi che parlano tra di loro. Noi possiamo scegliere queste icone, possiamo digitare il testo, e questo sarà il risultato finale. Si tratta di uno strumento molto semplice da utilizzare, che è anche molto divertente e che può essere di supporto a varie attività didattiche e a vari approcci alla didattica, come quello narrativo. Ando sul link un video tutorial che spiega in pochissimi minuti, due minuti appena, come funziona Talks, grazie ad Andrea Maiello. Quindi un libro, un capolavoro di Gianni Rodari, la grammatica della fantasia, esistono delle regole dell'immaginazione che ci permettono di giocare con le parole e costruire, creare racconti attraverso variazioni e attraverso espedienti di tanti tipi. Cliccando sul link, una recensione di Vanilla Snow, in cui potrete non solo trovare una vera e propria recensione del libro di Gianni Rodari, ma anche un'infografica che raccoglie alcune delle regole, degli espedienti, dei suggerimenti, delle ipotesi che Gianni Rodari suggerisce per poter giocare con le storie. Per esempio il binomio fantastico, prendere due oggetti qualsiasi, in questo caso un cane e un armadio, incrociarli e vedere che storie ne vengono fuori, il cane con l'armadio, l'armadio del cane, il cane nell'armadio, oppure ipotesi fantastiche, che cosa succederebbe se un uomo si svegliasse trasformato in un immondo scarafaggio, deformazioni delle parole, stemperino, errori creativi, la lamponia anziché la lapponia, giochi surrealistici, eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete un'infografica abbastanza completa, anche se non ci sono tutte, rappresentate tutti i suggerimenti, e tutti gli espedienti suggeriti, come dicevo, da Gianni Rodari. Molto interessante l'analisi fantastica, per esempio, inventare nuove storie su un personaggio, scomponendolo in fattori primi e così via. Suggerisco la lettura, ovviamente, della grammatica di fantasia, ma anche di questa interessante infografica recensione. Un gioco, Storycube Original, che ricorda molto Storydice, l'applicazione suggerita nel numero precedente, di Gnham. Infatti, come vedete, si tratta dei cubi, o meglio, dei dadi, tirando i quali abbiamo determinate combinazioni, vedete, ci sono varie icone, e noi possiamo costruire una storia basandoci sulle varie combinazioni che sono uscite. È uno strumento per tradurre in termini giocosi la meccanica della narrazione. Infine, un articolo, quasi un breve saggio, di Angela Lagreca, pubblicato su Educazione Scuola nel 2017, il cui tema è il rapporto tra narrazione e educazione. Si tratta di un articolo molto ampio che si muove sulla scia di Brunner, in cui vengono poste quattro domande chiave. Cos'è la narrazione? Perché si narra? Perché è importante narrare? E quali sono le implicazioni nell'apprendimento e nella didattica della narrazione? La narrazione, sempre seguendo Brunner, viene indicata come essenziali. Due le funzioni del pensiero narrativo fondamentalmente esaminate. La narrazione come strumento esplorativo e interpretativo del mondo reale e della cultura, e come strumento di negoziazione e costruzione del senso della realtà, ma anche come creazione narrativa del sé. E poi si esaminano, vedete molto ampio l'articolo, quelle che sono, secondo Brunner, gli elementi che caratterizzano il pensiero narrativo, il dispositivo narrativo, il linguaggio narrativo. Un articolo molto interessante, nel quale traspaiono tutte quelle che sono le problematiche fondamentali ed essenziali legate alla narrazione, come il fatto che la narrazione, per esempio, favorisca la collaborazione, favorisca l'interpersonalità e la cooperazione, ma anche il saper fare. Queste le cinque perle da non dare i porci dell'edizione blu di Gnam, vi lascio con questa frase di Andrew Stanton, Don't give them four, give them two plus two. Non date loro quattro, dategli due più due. Arrivederci.